Ciao Mazzoni! Scusi eh, ma ho avuto un po' di contrattempi, comunque è tutto pronto. Allora questa è la ricerca. Grazie. E poi ho fatto anche il sito per sua moglie. Questo non è niente eh. E lei non si immagina cosa sento io da qui eh? O da comunque ora che ho vinto il concorso, insomma, voglio dire, mi spetterà anche un ufficietto un po' più decente. Eh, proprio di questo ti volevo parlare Mazzoni. Scusi, il concorso è andato male, è arrivato un candidato più meritevole di te. Cosa? Ma da quando in qua vince il merito, scusi? Ma poi chi c'è più meritevole di me? Io voglio nome, cognome e curriculum, nome, cognome e curriculum, questa volta faccio ricorsa al TAR, eh? Calma, Bazzoni. Ma che calma Bazzoni, calma Bazzoni, io ho undici anni che sto calmo, io ho undici anni che lavoro per lei, insegno per lei, faccio esame per lei, faccio ricerche che poi lei firma. Ma non è colpa mia, De Fornaris ha scelto Pino Conca. Ma chi è Pino Conca? Il marito della figlia, l'aveva preso nel suo studio privato, ma il ragazzo è scemo, perde tutte le cause. Mi faccio capire l'inesto, questo è scemo e quindi fa carriera all'università.